Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova video, sono Stratunga e oggi siamo in un nuovo vlog su chiamalo tutto allora, intanto vorrei cominciare a recitare come al solito che capelli ho? allora, devo fare due news uno, è che farò la poesia anzi no, iniziamo dalla più importante la cosa più importante è devo salutare la mia migliore amica, perciò ciao Sofì poi dopo questo recitiamo tre, due, uno chi ha parlato? chi cazzo ha parlato? chi è quel lurido stronzo comunista che ha firmato la sua condanna a morte? ah, non è nessuno, eh? sarà stata la fatina buona del cazzo vi ammazzo a forza di ginnastica vi faccio venire i muscoli al buco del culo chi ha parlato? una cosa molto semplice e dolce ma volevo farvi sentire una canzone che a me piace molto ma che poi ci ho espresso anche un pensiero e la canzone è allora un attimo ah, ragà, non la trovo non la trovo ma continuo a cercare ma vedo un attimo pronti? tre, due, uno da una botta il pensiero ma non si riesce a capire un cazzo insomma, ecco che è sta canzone senza le maiuscole senza i punti esprimiti allora io mi riprendo da due giorni di febbre e domani farò un farò l'horror e perciò tutte le cose vanno a puttane e perciò vorrei esprimere la mia rabbia con con una canzone che cazzo ti fa a fa la spisma da amurta sì proprio così se domani non desisterò all'horror chinati alcuna amata ragazzi se il video è piaciuto lasciate un commento mi piace commento mi piace mi piace lasciate un commento giù in basso e poi guarda qui clicca scriviti e fai scrivere quelli che conosci perché io sono Gagliardo perché sei una professione seria e se non ti iscrivi ti metto questo nel culo questo nel culo lo faccio uscire lo faccio uscire così perciò ci sono tutti ragazzi grazie 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 grazie